Preferiresti lasciare un mi piace a questo video o prendere un 4 alla tua prossima verifica? Io starei molto attento alla tua risposta. Comunque, ciao a tutti ragazzi sono Mattiz e benvenuti nel primissimo episodio. In realtà non è il primo perché qualche anno fa l'ho già portato di questo o quello. Would you rater? Chiamatelo in italiano o in inglese, non cambierà nulla! MX1698 è l'abbonato di oggi, un grandissimo saluto! È un gioco divertentissimo e molto semplice. Abbiamo due opzioni da scegliere molto difficili perché ci metteranno tantissimo in difficoltà. Come ad esempio questa prima domanda. Preferiresti bere Coca-Cola per il resto della tua vita o bere Fanta per il resto della tua vita? Io ragazzi su questo penso di non avere dubbi. Non ci posso fare nulla, la Coca-Cola mi piace troppo. Quindi selezioniamo Coca-Cola e il ben 76% delle persone hanno risposto Coca-Cola. Mi dispiace al team Fanta ma la Fanta piace di meno. Anche se a me piace pure quella eh. Prima di proseguire con la prossima domanda però volevo fare una domanda importantissima a voi. E anche dai provo a dare una risposta anch'io anche se non sarà facile. Preferiresti disinstallare Fortnite o disinstallare Brawl Stars? Sono sicuro che sul mio canale la gente si dividerà praticamente in due. E volete sapere la mia risposta? Non sarei capace minimamente di scegliere. Mi piacciono entrambi come giochi. Sono molto diversi e giocherei per tutta la vita Brawl Stars e Fortnite. Se proprio devo dare un punto di vantaggio semplicemente a Brawl Stars perché quando vado in vacanza ad esempio ci posso giocare da cellulare. So che si può giocare anche a Fortnite da cellulare ma è un pochino più complicato diciamo. Mentre su Fortnite il punto che posso dare a lui è che è così vario, è così divertente che ogni partita è completamente diversa dalle altre. Non potrei decidere ragazzi. Sentite basta, chiudo questo video ok? Ecco. Non sono capace a prendere queste decisioni così complicate. Adesso però torniamo con le domande del nostro gioco. Quella lasciamola stare, non ci sarà mai una risposta. Preferiresti essere molto attraente o essere molto milionario? No, no molto, essere milionario e basta. Beh guardate, secondo il mio ragionamento sono già molto attraente. Quindi scelgo essere milionario. E attenzione, il 65% pensa di essere una finta persona attraente come me. Si è fatto allo stesso ragionamento. E niente, siamo tutte persone milionarie magari. Prossima domanda. Preferiresti essere scemo ma molto attraente? Oh ma si sono fissati questi con l'essere attraente. O essere intelligente ma di normale bellezza? Adesso spiegatemi. In base a quale parametro esiste la normale bellezza? Comunque questa risposta mi piace. Quindi io scelgo il blu. Preferirei essere di normale bellezza. Almeno sono intelligente. Questa risposta ha davvero spaccato completamente. Solo il 17% ha risposto essere scemo ma molto attraente. E mi dispiace per quel 17%. Ok, prossima domanda va. Preferiresti entrare nel tuo videogioco preferito o entrare nel tuo film preferito? No, no. Mi dispiace ma tutta la vita entrare dentro Fortnite. No, ragazzi. Ragazzi, entrare dentro Fortnite. Buttarsi, non lo so, appinna quelli pendenti nella realtà. E farsi uccidere in 3 secondi. Perché come sono Nabbo nel videogioco sono Nabbo anche dentro al videogioco. Ne sono sicuro. Prendere l'overboard, il quad. Andare, mamma mia, sarebbe troppo figo. Costruire una scala e buttarsi di sotto. Ma con il deltaplano, ovviamente. Comunque mi dispiace ragazzi ma io scelgo. Cosa mi state prendendo in giro? Solo il 36% delle persone ha votato essere nel videogioco. La maggior parte ha giocato... Sì, ha giocato. Ha votato film. In effetti piacerebbe anche a me entrare in tuoi storie e diventare un giocattolo. Però mi piacerebbe di più entrare dentro Fortnite. Non ci posso far nulla. Va bene. Fatemi sapere cosa avreste votato. Sì, bene. Corriere a parte che ci trovano sempre nel momento giusto. Un saluto a tutti i corrieri che stanno guardando il mio video. Possiamo tornare a noi. No, non posso accettare che solo il 36% abbia deciso di mettere... Uffa, ma secondo voi a cosa pensava quel 64%? Oh, oh. Questa è tosta. Questa è a dir poco complicatissima. Preferiresti non ci fosse l'inverno o non ci fosse l'estate? Questa è complicata, eh. Allora, io vi dico la mia. Io adoro l'inverno, mi piace tanto, ma si va a scuola. Mentre l'estate mi piace, ma non sopporto il caldo tanto quanto il freddo. Però non si va a scuola. Quindi, oh, non lo so. Probabilmente da piccolo... Cioè, da piccolo. Adesso che vado a scuola, sceglierei l'estate. Mentre più avanti sceglierei l'inverno. Non ha senso questa risposta. Matti, devi prendere una decisione. Oh, preferirei non ci fosse l'inverno, dai. Ok, lo sapevo che tanto tutti rispondevano così, era scontato. Però davvero, inverno mi piace, non ti offendere. Io adoro andare anche in montagna, quindi... Preferiresti vivere in città o vivere in campagna? La campagna mi piace tantissimo, ma probabilmente non sarei adatto a viverci. Da quando sono nato che vivo nelle città e di conseguenza clicco vivere città senza pensarci. Eh, la maggior parte di loro ha messo vivere nelle città. Non lo so, non saprei che dire. Qui ho una preferenza proprio senza pensarci. No, vabbè ragazzi, mi hanno messo davvero la domanda con Fortnite. Vi giuro, non l'ho fatta apposta. Queste sono domande casuali. Comunque mi chiedono se preferirei giocare a Fortnite o a FIFA. Raga, dovete sapere che io nel 2014-2015 giocavo praticamente solo a FIFA e Call of Duty. Erano i miei due giochi preferiti. Il fatto è che non c'era Fortnite, quindi non potevo dare... Non potevo scegliere chi mi piaceva di più. Io adesso però preferisco. Uh, giocare a Fortnite, attenzione, ma la squadra FIFA ha combattuto fino all'ultimo. Infatti abbiamo un bel 46%. Questa è stata molto combattuta. Preferiresti essere sempre nudo o non lasciare mai la tua casa? Ma che domanda è questa? Però ragionateci, lo so, essere nudo è molto vergognoso quando vai in giro. Ma sapete che vuol dire non lasciare mai casa? Cioè tu praticamente nasci oppure non nasci. Però da questo esatto momento io non posso più lasciare la mia casa. Eh, sarebbe impossibile. Quindi è molto strano. Ma io dico essere sempre nudo. Oddio no, non ce la farei mai probabilmente. Mi vergognerei. Ma ma dai, forse dopo un po' ci farei pure l'abitudine. Vediamo che hanno risposto per... Uh, è la prima volta che metto una risposta della minoranza. Il 56% preferirebbe non lasciare mai la casa. Ma scusate ragazzi, ma non potete mai scoprire tutte le bellezze che ci sono nel mondo. Ad esempio, il McDonald's. Ovviamente no, sto scherzando. Comunque, vabbè, forse sì. La gente ha ragionato che comunque, non lasciando mai la tua casa, ad esempio, che ne so. Puoi ordinare le cose da internet, i tuoi amici possono comunque venirti a trovare. Ma se i tuoi amici ti vengono a trovare, tu ogni tanto dovresti andare a trovare loro. Quindi, vabbè. Sorvoliamo questi ragionamenti strani che mi fa... Solo io posso fare questi ragionamenti durante un video, comunque. E passiamo alla prossima domanda. Preferiresti praticare uno sport o guardarlo in tv? Ragazzi, sentite, a sto punto, se devo praticare uno sport che mi piace, preferisco giocarlo e non guardarlo. Di conseguenza, praticare, eh, anche questa è abbastanza scontata, direi. Però, visto che io faccio schifo in qualsiasi sport, niente da fare. Anzi, io non lo guardo nemmeno, è quello il bello. Preferiresti che esistessero i supereroi oppure i Pokémon? Ok, qui penso di avere la mia risposta. Tu ora ti affacci dalla finestra, ti affacci dalla tua finestra di camera e vedi un Pokémon sul tuo tavolo. Un Pikachu, ok? Ok, volete mettere la bellezza di toccare un Pokémon rispetto ai supereroi? Allora, no, vabbè, devo dire la verità. A me i supereroi non sono mai piaciuti tanto, ma anche se mi piacessero, avere un Pokémon in casa sarebbe il mio sogno! Sarebbe davvero un sogno! Quindi, vai di Pokémon! E la gente ha votato per i supereroi. Potevo aspettarmelo, i supereroi piacciono a tantissimi, ma... Sentite, non lo so, io ho io un Pokémon in casa, regalatemelo per favore la prossima volta che mi incontrate. No, vabbè, ma questi si sono fissati con Fortnite. Un'altra domanda, preferiresti giocare a Fortnite o giocare a GTA? Ma la smettete con sto Fortnite? Secondo me hanno capito che questo è il mio cellulare e che tipo faccio video su YouTube? Non lo so, mi mettono tutte domande su Fortnite. Comunque, anche in questa non ci posso far nulla. Ho giocato a GTA, ovviamente, ma preferisco Fortnite. Oh, eh, eh, ragazzi, eh, che ti che vi posso dire? Magari GTA 6 in futuro mi piacerà di più, ma al momento Fortnite... E attenzione perché anche il pubblico qui si spacca completamente a metà. Abbiamo il 51% di Fortnite e il 49% di GTA. Wow, questa è stata davvero la risposta più incredibile. Metà e metà. C'eravamo quasi l'1% fa vincere però Fortnite Battle Royale. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sono divertito tantissimo a rispondere a queste domande. Spero vi state divertiti anche voi. Fatemi sapere se volete un altro episodio di Vulture Raider lasciando un bel mi piace. Sono molto curioso se questo potrebbe magari diventare una serie, no? Ci starebbe bene. E mi raccomando, in questo momento trovate sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto. Quindi cliccate su quello che preferite e noi semplicemente ci vediamo in quel video. In basso a sinistra trovate il link per abbonarvi. Scegliete il livello di abbonamento che preferite in base ai vantaggi che ci sono. Merchandising in descrizione, Instagram in descrizione, niente. Ciao!